Ragazzi lì abbiamo due problemi, ben due! Abbiamo uno degli Smiling Critters che sarebbe Dog Day e poi abbiamo pure un'altra creatura veramente orribile e Dog Day sta entrando nel mio villaggio. Oh mio Dio, no, 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 Dog Day non può entrare, non può entrare. Allora, in acqua lui è decisamente più stupido, non riesce a picchiarmi mi sa, perché, eh, non so, cioè mi sembra che è abbastanza stupido. Vedete? Si sta avvicinando, però ho paura che mi faccia del male, anche perché non vorrei che mi faccia, tipo, la puzza nel villaggio. Questo è il mio villaggio, ci ho fatto tutto quanto qui dentro, ci ho messo ovviamente le mura per proteggerlo, non puoi entrare. E poi c'è... Oh Dio, raga, no, 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 mi sono cagato addosso tanto. Madonna santa, che spavento, ma che scherzi, mio Dio che paura, e per fortuna lui muore. Dog Day basta, vai via, non puoi entrare. Ragazzi, perché vuole entrare nel mio villaggio, poi? Perché sta andando proprio in quella direzione, non è che sta cambiando idea. Sta cambiando idea, forse? Non sto capendo. Allora, se vedete, io ho le ali. Io posso volare, perché, per chi non lo sapesse, questa erba, se la tocco, muoio, come vedete. Io però posso rinascere qui, nel mio bellettino, però ovviamente non possiamo allontanarci troppo e calpestare l'erba, se no, è un problema, chiaramente. Quindi mi sono messo le ali. Queste ali ci aiuteranno un sacco, poi dopo per fare viaggi lunghi, eccetera. Però, oggi, prima dobbiamo sconfiggere il Dog Day, prima di tutto, perché mi sa che continua ad essere un problema. Ragazzi, io non so come fare, però. E direi prima di tutto di metterci queste, l'armatura, così almeno viviamo, se lui ci attacca. Non so, facciamoci una spada in diamante, non so se riusciamo a farcela, perché in teoria... Ho sei diamanti. Quindi, sì, riusciamo a farcela, perché vorrei farmi anche il piccone in diamante, per poi andare a scavare delle risorse. Perché oggi c'è anche una cosa, che praticamente i diamanti e tutte le cose si possono prendere in modo molto più semplice. Il che è molto utile, sempre se li troviamo, però. Quindi, facciamo così, perfetto. Allora, che cosa sta succedendo? Ma, forse l'ha ucciso il Golem? Dov'è finito Dog Day? Dov'è finito? Non è che è entrato nel mio villaggio e non me ne sono accorto? Ragazzi, dov'è finito Dog Day? Dog Day, dove sei finito? Dove sei? No, mi fa paura se non c'è... Ok, allora, mettiamoci immediatamente le ali e sorvoliamo qui intorno. Dov'è sparito? No, aspetta, fermi tutti, fermi tutti. Perché c'è questa porta qua? Io non l'ho mai vista questa porta su Minecraft. Magari mi sto confondendo io, ragazzi, però non mi sembra di non averla mai vista. Allora, vai, vola, vola, vola. È il vola, ho detto. Allora, andiamo su in volo così, tanto in volo, ok. E qua non c'è nessuno, non sembra esserci nessuno, vedete? Eh no. Magari è tipo qua da queste parti. Comunque veramente... Cioè, non si vede niente, ragazzi. Cioè, allora, praticamente... Perché io per andare in su, devo puntare in su, ovviamente. E quindi è un problema per poi veder giù. Perché poi, per veder giù, devo puntare in giù. Infatti, se faccio così... Ah, però, ecco cosa posso fare. Posso mettermi così, posso vedermi dietro e continuare a salire. Eh, oppure così. Oppure così. Beh, non mi sembra che ci sia Dog Day comunque qua. Quindi, buono. In te wiggia. Speriamo. Bene. Allora, scendiamo qua sotto. Forse l'avrà sconfitto il golem. Grazie il golem, nel caso. È stato molto gentile. Allora. Una cosa che possiamo fare adesso è... Salvare questa mucca perché magari potremmo farci delle... Una farm di mucche qua intorno. Così almeno abbiamo sempre cibo. Quindi, andiamo immediatamente qua. Adesso abbiamo 18 di staccionate. Mucca, tu starei fermo. Dov'è finita? Ma ragazzi, perché... Ah, eccolo qua. Perché, dicevo. Perché si tolgono le cose? Villager, spostati. Perché se no mi arrabbio tantissimo. Villager, si sposti, signor. No. Eccoci. Eccoci. Proprio ciò che non doveva succedere. Oh, mi sto innervosendo, ragazzi. Allora, facciamo così. Mettiamo le cose qui intorno. Così, 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 così. E col cacchio! Figlia di puttasca! No, col cacchio, col cacchio. Non vai da nessuna parte, ok? Non vai da nessuna parte. Perché ogni volta le mucche vogliono andare da chissà quali parte. Eccoci qua. L'ho messa... No. No. No, col cavolo. Tu non esci da qua, è chiaro? Ok. Perché abbiamo bisogno per farci una farm di mucche. Così almeno ci facciamo il cibo. Ok. Bene. Ragazzi, è stato complicatissimo! Che pizza questa complicatezza delle mucche! E comunque abbiamo anche la farm di barbabietole da zucchero. Cioè, sì, di barbabietole, di cose strane. Non so cosa sia questa cosa. Non me lo chiedete, non ne ho idea. Quindi, adesso, andiamo a cercare una miniera. Ok. Sto volando. Sto volando, amici miei. In teoria qua bisogna cercare la miniera. Signora miniera! Io ti invoco! Ecco, qua non possiamo andare perché c'è direttamente troppa erba. Però possiamo andare più velocemente. Lì sotto non so cosa ci... Cos'è sta roba, raga? Cos'è? Non lo so. Non mi voglio fermare per ora. Però sarebbe interessante capire che cosa sia. Invece andiamo da queste parti e cerchiamo appunto una miniera. Dovremmo trovarla anche abbastanza velocemente perché ecco, tipo qua, credo che sia abbastanza buona come cosa. Mettiamoci qua così. Ok. Speriamo che sia abbastanza... Eccoci. Non va bene, mi sa, però, questa miniera. Eh no, non va bene, ragazzi. Non è una miniera. Allora, riprendiamo il volo e ritorniamo su per cercare la miniera perché appunto ci serviranno un sacco di diamanti e un sacco di robe. Ah, ricordiamoci che però nelle miniere possiamo trovare dog vape. No, sono morto. Ho sfiorato l'erba e qua si è buggato tutto. Cos'è successo? Ragazzi, cos'è successo? Ok, eccoci qua. Bene. Ritorniamo su, però stavolta faccio un taglio. Beh, ragazzi, sto notando qualcosa di strano, se posso dire la mia. Giusto un pochettino. Io stavo volando qui in giro, stavano succedendo... Beh, in realtà niente, non stava succedendo proprio niente. E ho trovato questa cosa. Allora, togliamoci le ali, sennò diventa un disastro. Quindi mettiamo così tutto quanto. Allora, potremmo dire che c'è un problema nella generazione del mondo, per un qualche strano motivo, no? Qua c'è del carbone, il mio impulso di prendere tutti i minerali è sempre più forte. Qua c'è del ferro, fra poco lo prendiamo. Ma prima parliamo di quest'altra cosa. Ma cosa diavolo è successo? No. Mi ha dato fatica del minatore. No! E adesso come faccio a togliermi la fatica del minatore? Probabilmente c'era, non so, un qualcosa qui vicino che ha rotto tutto il... No, ragazzi, che disastro. Che disastro. E quello era un mistero bellissimo. Che adesso ritorniamo perché mi ricordo dove è, più o meno. Adesso stiamo attenti a non metterci di nuovo sull'erba. Quindi mettiamoci qua. Eccoci qua. Allora, c'è anche una signora tartaruga. Che non è molto importante in questo momento. Quello che è importante è tutta questa cosa qui. Adesso ci posizioniamo qua sul bordo. Speriamo che non mi dia di nuovo la fatica del minatore. Perché l'aspetto positivo del fatto che sono morto... E che ovviamente mi ha tolto la fatica del minatore. Allora, beh. Qui, ragazzi. Che vi devo dire? È successo un piccolo casino, se posso dir la mia. Ma vi sembra normale questa cosa? Ma cosa, caspita, è successo? Ma si è rotto tutto il mondo, probabilmente per qualche strano mistero. Per qualche problema di generazione. Molto strano. Come diavolo è potuto succedere? Questa è una cosa veramente strana che ha bisogno di più investigazioni. Perché... Non so, ragazzi. C'è qualcosa che non mi quadra. È veramente strano. Qua i pesci stanno nell'acqua, manco cadono. Ma come, caspita, sta succedendo... A parte, a parte. Come fa l'acqua a restare perfettamente lì? Ah, ma guardate lì. Guardate lì. Ecco perché mi avevano dato fatica del minatore. Perché lì c'è un intero tempio sottomarino. Completamente, peraltro, posizionato al suolo con delle cose che vanno fino a sotto. Perché lì non c'è più l'acqua, quindi bisognerà reggersi in un qualche modo. Almeno... Vabbè, su Minecraft poi galleggia tutto in realtà in aria. Però, vabbè, era un esempio. E guardate qua. Cioè, l'acqua non scende. Com'è possibile che l'acqua non scenda? Vedete? Si è proprio rotto tutto. E ora mi chiedo, ragazzi. La vostra versione di Minecraft alla quale giocate, che è la stessa in questo momento che sto giocando io. Solo che su computer. Vi dà questi problemi? Punto di domanda. Scrivetemelo nei commenti perché vorrei saperlo. Se non vi dà questi problemi vuol dire che c'è un problema... Serio? Con il mio mondo? Vabbè che l'hanno già capito con lo stranger, il tizio alto con gli occhi neri. Poi Dog Day nel mio mondo. Vabbè, tutte queste cose, diciamo, che potrebbero darci dei problemi. Ecco, però potrebbe essere utile iniziare a scavare qua sotto. Perché tanto qui ci saranno un sacco, ma tipo tantissimi minerali. Che possiamo utilizzare. Quindi, pam, scendiamo qua sotto. Ah, vedete? Qua, attenzione che qua scendo. C'è, cado direttamente nell'acqua. E tutto scaviamo qua. Ok. Allora, in teoria, ragazzi, non so. Dovrebbe funzionare direttamente questa cosa. Io ho messo un add-on, no? E no. Come funziona? Ah, ma perché non vai? Io ho messo questa cosa all'interno del mondo. Dovrebbe andare. Per favore, fammi andare. Vai, vai. Cioè, no, no. Allora, quello che dovrebbe fare, ragazzi, è praticamente che io scavo un qualcosa. E dovrebbe prendermi, tipo, tutto, diciamo, tutti i minerali intorno a quel qualcosa. Almeno, è così che mi sta facendo vedere, diciamo, nella guida qua che avevo messo. Cioè, è strano, infatti, che non funzioni. Forse si sarà buggato come tutto il resto, probabilmente. Potrebbe benissimo essere, eh. Peraltro sta pure diventando notte, accidenti. Questo male, però... Aspetta, facciamo così. Ok, mettiamoci qua. Mettiamo tutti dei blocchi qua così, così almeno possiamo... Oh, no! No, non cadere, porca vacchettona! Ok. E mettiamoci anche delle torce, così ci vediamo qualcosa. Ora, dovrebbe fare quella cosa che ho detto. Quindi, così... Pem! Oh, no, non è vero. Dai, credevo che funzionasse, invece! E vabbè, non è male, perché comunque qua si è buggato comunque tutto quanto. Abbiamo tutti i minerali esposti, praticamente tutto ciò che ci serve. Il ferro, i diamanti che abbiamo trovato. Che è utile, eh. Perché dobbiamo farci l'armatura in diamante per sopravvivere. Perché qua, se no, non sopravviviamo. Va bene. Però ho capito! Io volevo questa cosa che ho messo! Porca puzzettona, scurreggia, maiala, maiala, puzzona, scurreggia. Mi sto innervosendo! Vabbè. Scusate se ho urlato un po' troppo, va bene. Però qua si vola! Che divertente, comunque. Però aspettate un attimo, perché... Ah, qua va bene, qua va bene. Perfetto, perfetto. Non bisogna avvicinarsi troppo a quel tempio sottomarino, perché se no ci dà... La fatica del minatore! Che è la cosa peggiore che si possa prendere! Ah, quant'odio questa cosa che hanno messo su Minecraft! Io vorrei che esplodesse! Insomma, la fatica del minatore, dico, non chi l'ha fatta, ovviamente! Se no, poi dopo i legali... Sto scherzando, ovviamente. È tutto un grande joke! Un grande scherzone! Però qua, dobbiamo trovare altri minerali, perché se no non va bene per niente. Quindi saliamo qua sopra! Comunque è bellissimo avere questi ali. Avete visto cosa ho appena fatto? Cioè, ho posizionato i blocchi direttamente qua. E manco ho preso danno, perché mi sono schiantato con la faccia nel muro. È bellissimo! E poi grazie per questa generazione. Forse magari è qualcuno che ci sta aiutando a sto punto, non lo so. Dovrebbe esserci anche un aiutante all'interno del mondo. Le storie sono piene di aiutanti. Oh, non volava! Oh! Ma ragazzi! Perché non vola? No, 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 no! No, no, no! Yo, yo! Yo! Non... Raga! Ma perché non vola più? Queste ali... Ma che problemi hanno? Ma mi stanno facendo gli scherzi, ragazzi? Allora, riproviamo? Ok, bene, così. Oh, dobbiamo stare attenti, perché... Se no qua diventa un piccolo problemuccio. No, aiuto, raga, aiuto. Allora bisogna... No, no, così, così. Ok, bene. Beh, fermi tutti! Dio mio! Che difficoltà! Oddio! Oh! Non di nuovo! Se no cadevo nella lava stavolta. Porca vacca! Allora, andiamo da questa parte. Qua ci sono altri buchi, a quanto sembra, di vedere. Però stiamo attenti con queste ali, raga. Perché potrebbero essere più un casino, piuttosto che un aiuto. Anche se no, in realtà è veramente un aiuto, raga. Cioè, se no qua dobbiamo mettere blocchi, scendere, salire, è una roba assurda. Invece, molto prima si fa così. Grandi! Allora, io non so come, caspita, sto volando in questo momento, ragazzi. Ho come l'impressione che... Ma what? Ma wow, posso fluttuare così? No, ma che bello! Ma è bellissimo! Allora come si fa, scusatemi. Non ho capito come si usano queste ali, allora. Palese. Vabbè, bellissimo comunque così. Se io scavo, si scava più lentamente, quindi posizioniamoci a terra. Così si scava più velocemente. E niente, ho rotto tutto. Volevo prendere il carbone, perché in effetti potrebbe essere utile. Anche perché, ragazzi, stava finendo... Ah, no, 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 no. No? Ok? No, piano, piano. Allora, bisogna capire come si usano queste ali, ragazzi, perché... Allora, così ci si mette in volo. Allora, aspetta un attimo, perché... Allora, con due click ci si mette in volo. E vabbè, ho capito. Però io volevo restare... Ma... Scusa! Smettila di andare avanti! No, ragazzi. Forse facendo tipo così, mettendoci su un muro, ad una certa ci si fermano. No? Oh! Stavo cadendo... No, basta, basta. Non sto capendo come si usano queste ali, ragazzi. Se è veramente difficile. Cioè, vabbè. Però, ora, sto cadendo apposta questa volta. Perché vorrei trovare altri diamanti. E quindi bisognerà addentrarci di più in questa miniera. Ora, io posso mettermi a volare, no? Aha! Ci sono dei diamanti! E vola! Ok? No. Molto male. Molto, 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 molto male. Molto... Sembro tipo un insetto. Aiutatemi! Aiutatemi! Aiuto! 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 Ok, va bene così. Facciamo finta di niente. C'è un diamante, comunque. Il che è ottimo. Io, incredibile, non pensavo di diventare mai una zanzara o una locusta. Però ci sono diventato, quindi mi dispiace. Cioè, potevo diventare tanto altro. Però, insomma. Ognuno si fa quello che può, insomma. Ah! No! Porca vacca, no! No, no! Io l'ho detto, queste ali sono il male. Sono in realtà una maledizione. Altro che... Altro che... Porca vacca! Allora, scaviamo... Cosa c'è di sopra? Non è che c'è tipo un diamante. Sognare a capire, ma è difficile. Vabbè, però andiamo qua for... Ecco, qua meglio, qua meglio. Ok, qua non c'è lava, punto primo. Punto secondo si può scavare per trovare i diamanti. Quindi buono, così. Buttiamo via queste cose! No, no, non di nuovo tu! Ragazzi, ma è inquietantissimo! Ma che creatura è questo? Poi c'ha pure un piccone, vedete? In effetti... Ma perché viene ad attaccarmi, scusatemi? È questa la cosa strana che non capisco! Perché mi attacca? È veramente inquietante! È una creatura veramente strana! Che non mi spiego, perché su Minecraft normalmente non c'è, no? Come nemmeno, ovviamente, i Smiling Critters, come Dog Day, eccetera. Eppure! Eppure, ragazzi! E purtroppo c'è! Purtroppo è all'interno di questo mondo! Davvero, davvero strano! Allora, magari... Dato che abbiamo trovato un po' di diamanti... E quattro! Beh, insomma, davvero tanti! Stavo dicendo... Noi abbiamo trovato un po' di diamanti perché non andiamo a crearci un'armatura in diamante! Sì, sì, sì! Ottima idea, Dunis! Ottima idea! Guarda qua! Certo! Sicuramente riuscirei a farti un'armatura in diamante! Vabbè, e come si torna indietro, però? Mi son perso! Eccoci! Bene! Eccoci! Ah, ecco qua! No! Vola, ho detto! Porca vaca! Sentite, andiamociene sopra! Ma non si può uscire, allora... Mi sa che... Si deve andare da quest'altra parte! No, no, attenzione! Ah! No, sono morto! Sono morto! Vabbè, però, allora, possiamo ritornare indietro? Senza problemi, senza... Perché tanto abbiamo la Keep Inventory, c'è quella cosa che non ci fa perdere i diamanti all'interno... Cioè, scusate, tutte le cose all'interno dell'inventario. Io, comunque, continuo a notare una cosa, ragazzi. Queste porte, io sono abbastanza certo che nei primi episodi non c'erano. Ma come, caspita, sono cambiate! Scusatemi, eh! Ora, ogni episodio in questo mondo è a sé, cioè, nel senso, non è che c'è una storia continua. Però... Ehm... È strano. Ehm... Questo credo che sia abbastanza strano, ragazzi. Perché c'è? Ah, pensavo che stavo guardando la carne morta. Ehm... Grazie, signor Golem. Comunque, che bello. Dobbiamo farne molti di più di Golem. Perché tanto si fanno con i blocchi di ferro. Mi pare una zucca, forse. Non mi ricordo. Sì, forse è una zucca di qualcosa. Però, vedete, sono molto utili. Il che è buono per proteggerci. Dovremmo farli. Questo è un prossimo obiettivo. Anche perché... Anche perché qua c'è gente strana. Eccoli qua, i signorini. Ma come fanno ad entrare? Ma perché arrivano dall'acqua, ragazzi. Quando è notte, spawnano. Ecco, vedete? Vengono da qui, indietro. E come ho detto io, dovremmo circondare tutto il villaggio... Di questi blocchi qua. Tutto quanto. Spero che queste novità di queste versioni vi piacciano. E spero che i misteri di questo mondo vi stiano appassionando. Perché ce ne sono davvero molti. C'è l'Erba Sorridente. Erbam. C'è Dog Day. C'è lo Stranger. E tutti quanti. C'è l'Erba Sorridente.